Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Johnny Gamer e oggi siamo in un nuovo vlog dove farò una challenge che mi ha chiesto un utente di nome Stefano allora mi ha chiesto di fare la sfida delle mollette in faccia beh grazie, ti ringrazio intanto di questa challenge e poi però volevo dirvi che potete scrivermi delle domande qua sotto oltre che delle challenge oggi sarò un video breve solo per fare questa mia challenge quindi iniziamo 1 oh ah fa male ah fa male ok qua va meglio ah questa la devo spostare ah fa male ah ahia ah no aspetta ecco oh 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 oh